Non credo Jack, sinceramente. Non credo. C'è, la gente piange perché poi... Si piccano sempre gli stessi campioni! Figli di puttana, ai tempi mi divertivo a giocare a Worf, ma non mi diverto più. Per colpa dei pezzi di merda che si lamentano. Si picchiano sempre gli stessi campioni. Forse perché è bello quando tu puoi decidere cosa giocare... Senza ovver chiedere agli altri? Bah. Comunque. Un attimo che c'è lo shop a puttane qua. Fammi un attimo, prenderla. Dark Seal. E refillable. Beh, potrebbe essere un'idea, vai. E si va così. Piccava... Io ragazzi piccavo chi mi pareva. Ma poi c'erano i ban, cioè non volevi qualcuno. Cazzo, lo bannavi. Se non ti andava bene qualcuno, lo bannavi. Cioè, c'erano i ban? Secondo me era giusto così. Così se c'era qualcuno troppo rotto che diceva e piccano sempre quello, lo banni. Cazzo, dieci banni in totale potevi benissimo farlo. Non capisco perché. Abbiamo dovuto mettere una random. Le arm sono belle, ma le Worf... No, eh, mi bannate sto tizio per favore. Grazie. Ovviamente sto scherzando. Allora... Dobbiamo cercare di staccare il più grasso possibile, ovviamente. Perché ho sparato sul minion? Perché sono ritardato, probabilmente. Ma non mi ha dato il grasso... Ma io... Io sono un po'... Scusate, ma sono un po' mongolo. Ah! Come ben sapete, sono giorni che non gioco al LOL perché è venuta la mia ragazza, quindi... Quando scopi troppo... Oh! Ma sto laggando, c'è qualcosa che non quadro. Ah no, ok. Sembrava stessi laggando, ragazzi. Sembrava che il computer non seguisse... I miei comandi. Vi giuro. Grasp! Grazie. 35MS. No, ma vi giuro, ma... Era un'impressione, per carità. Però sembra davvero che non seguissi i miei comandi. Grasp! Grazie, grazie. Però sto già finendo il mana. Eh, purtroppo devo aspettare i biscotti. Non ho altro. Mi riprendo, raga, mi riprendo. Eh, si sa che trombare fa questo effetto. Probabilmente non so se lo sapete anche voi come funziona. Tuk. Stuk! C'ha provato. She fried. No, ragazzi, le mani non valgono, eh. Non sono considerate trombare. Non è considerato sesso. L'autoerotismo. Mi dispiace dirvelo. Tuk! Guarda qua come graspa, Dio santo! Guardalo come graspa! Graspala tutta! Bella Zeron! Grazie mille carissimo del sub! Bentornato nella Felix Army, bro. Bentornato. Mamma mia che danni! Noi comunque non faremo kill, ve lo dico. Cioè noi siamo... Non abbiamo manco l'ignite, non abbiamo proprio modo di killare. Visto come gioca, nemmeno lecce a modo di killare noi. Però. Io ho già finito il mana, purtroppo. Ho finito le mani, ragazzi! Cosa posso prendere su stand di mana? La refillable. Addio! Vabbè, dai, vado di qua. Ecco qua. Vai, ho mangiato le arance, va bene? Oddio, Leal! Leal di Warwick! Eh, però devo andare back. Ok. Leal di Warwick, quello che non ti aspetti. Vai. Andiamo. La corrupting, sì sì, l'ho presa, l'ho presa. Vai, prendo una plate, va bene così. Più che altro ho finito il mana. Oddio, la prendono. Ah, è vero che si aprime i cinque minuti, non c'è... C'è lo scudo. Però l'han preso lo stesso. Oddio, certo è pure uno scherzo. Oddio. Ho poca vita, no, no, no. Aiuto, aiuto. Ho poca vita. Ho poca vita, guardatemi. Oddio, guardatemi. Oh! Eh! Aiuto! Ho poca vita, aiuto! Adesso torna a Warwick. Troia di merda, mi ha tolto la boccia lì. Guardatemi, sì, ho poca vita. Ah! Ah! Aiuto, poca vita, aiuto! Aiuto, poca vita! Aiuto, aiuto! Cosa posso fare? Aiuto! Ho poca vita! Oddio, come farò adesso! Oddio, poca vita! Oddio, poca vita! Oddio, come faccio! Oddio, come... Guarda! Lo voglio killare, sto pezzo di bella! Aiuto! Aiuto! E' stato lag, ragazzi. Voi non capite. Oh, non... Ah! Eh! Ah! 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 Mi... Mi... Sentite... Ragazzi? 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 Mi sentite? Forse lag... Non so se mi sentite... Lagga, lag... Lag... Lagga, sentite? Mi sentite? Adesso... Oh! Spera, forse hai preso un attimo? Mi sentite adesso? Laggavo un po', eh? Va meglio? Mi sentite? Ora sì, ha laggato tutto. Ok, va bene, va bene. Allora perfetto. Ok, no... Madonna santo, quando mori per il lag... Però ti fa proprio incazzare. Eh vabbè, eh vabbè, dai. Comunque... Il kill non l'ha presa lei... Ma hanno killato mentre laggavo... Sti pezzi di merda... Ah! Eh! Oddio! Tuk! Cos'è? Torna il fidanzato? Il boyfriend? Sta tornando the boyfriend? Eh? Sicuro che torna? Dov'è? Eccolo lì! Eh no! Ah! Stavolta no! Vedete? Quando non laggo, ragazzi... Quando non laggo... È tutta un'altra cosa. Oh, prendi la Chogat! Prendi quella... Oddio la pre... Vabbè, la presa è vera, non ci credo. Oddio. Va bene, quindi... Che c'ho power, secondo voi? Pum! Graspa, graspalo tutto! Graspa il timo! Puff! Ancora qui! Ma cos'è? Vive qui sto ragazzo? Non vedo altra spiegazione. Ma cosa? Ma si può sapere cosa sta succedendo? Ah! Mannaggia! L'ho killata di Red! Vaffa! Aiuto! Aiuto! Poca vita! Poca vita! No! No! Oh! Ah! Aiuto! Poca vita! Aiuto! Ma... Ehm... Perché Timos è... Perché... Ah! Qua c'è un... Ma tutti! Vai! Venite pure, ragazzi! Dai! Let's go party mid lane! Ma comunque per me è so pre-made davvero. È soltanto mid lane sto tizio. Ma cos'è? Aiuto! Aiuto! Ho poca vita! Aiuto! Eh! Ma raga, ma perché due mid esattamente? C'è qualcuno me lo può spiegare cosa sta succedendo? Ma... C'è qualcosa che non quadra! Aiuto! Ho poca vita! Ah! Grazie pacca! Bentornata nella FelixSai, mi carissima! Bentornata! No, Chogat! Non morire! No! Vabbè! Ok! Chogat! Aspetta! Ma... Regà, ma secondo me si sono sbagliati, cioè... Non capisco... Non capisco... Puoi andare, ok... Te ne vai via, te ne vai via da qui! Non ti voglio! Ma davvero? Ma perché è sempre qua il tizio? Non capisco... Aiuto! 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 E quindi? Cacciamo, ragazzi! Niente, Chogat... Chogat vuole rimanere... Guarda! Chogat, grazie! Grazie dell'aiuto! Puoi anche andare... Stavo scherzando quando dicevo aiuto! Stavo scherzando! Stavo scherzando, Chogat! Chogat, vai via da qui! Prima che mi cazzi! E! Comunque io non capisco perché Warwick sia qui, cioè... Non... Ma davvero? Ma c'è qualcosa che non va nel loro team, perché... Non fa nemmeno i buff, non fa nulla... Magari fa soli buff... Chogat, vai via! Vai, cazzo! Oh, Gesù! Oh, Gesù! Niente, per mandarlo via bisogna ammazzarlo, è una cosa incredibile! Ma perché Warwick è sempre qui? Io non capisco! Non ho mai giocato, ovviamente, contro soltanto la... Ari, cioè... Vorrei tanto sapere perché è sempre qua! Vaffanculo Warwick! Che meraviglia! Ah, Grasp! Aiuto, aiuto! Aiuto, aiuto! Oh, raga, io sto prendendo un botto di HP! A me va benissimo così, eh! Tuk! Cioè, guardate qua che precisione! Tuk! No, mo' torna a Warwick, eh! Mo' torna, torna, un attimo che arriva, eh! È il funneling fatto... È il funneling dell'iron, questo! È vero, è il funneling! Perché sta così lontano, mo'? Eh, non c'è più Warwick! Ah! Piate sto Grasp! Ehi! Comunque fa troppo ridere tutto ciò! Secondo me devo farmi una goccia! Perché non pensavo di arrivare a... A consumare tutto sto mana! Perché non pensavo di... Di dover fightare di continuo! E sparare qua, go, go! Cioè, è una cosa assurda, davvero! Troia di merda, oh! Oh, ma... Ah! Oddio, come farò adesso? Oh! Vaffanculo! Non ti arricchierai più sulle mie bocce di... Di whisky, qua! Dai, ma non... Non ha... Ok! Vabbè, proseguiamo! Che cazzo è successo? Oddio! Io comunque in tutto ciò ho 5 stacchi di Dark Seal Che le butti! Eh no, eh! Non si buttano le stacchi di Dark Seal E ho ben 39 Silver Serpents qua Che meraviglia! Non ho un cazzo di niente! Solo il GP più povero che esista! Oddio, è ne arrivato un altro! Oh! Oddio, mi ha preso! Ah! Attenzione! Vai sotto torresa! Eh! 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 Grazie, Ciogat! Se non avessi avuto te, davvero! Oh, ma sta 7-4 a sto tizio! Ma che è? Oddio! Prendi la troia, Ciogat! Mamma mia, sei inutile! Graspa! Graspa lo! Ah! 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 Ma che cazzo! Che palle! Lasciatevi in pace! Perché è così fiddato? Ma perché ci sono 35 kill in sta partita? In 16 minuti! 35 kill! Oddio! Urgot con la Visage First Item! Oddio! Oddio, ragazzi! Sto impazzendo! Sto impazzendo! Siamo tornati alle vecchie gioie! Guardate qua! Guardate qua! Lux senza oggetto da support! Oh mio Dio! L'ADC contro il top laner, nel frattempo! Timo che perde Dash! Prendilo, Ash! Prendilo! Lì, all'esatto! Grazie della kill, Ash! Troppo gentile! Ecco! L'Urgot con la Visage che shotta tutte! E lui! E... Ah! 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 Sparate! Sparate! Ah! Ma vabbè, non faccio danno! Sono una cosa oscena, ragazzi! Ah! Oddio! Ari ha sbagliato Team! È arrivato dalla parte opposta! Ah! Prendi sta troia! Niente! MASH! Ma perché sei tornato indietro? Oh! Oh, hai rotto il cazzo! Prendi sto barbone! Prendilo! Madonna santa! Non ne prendi uno! Chogat! Prendilo, Chogat! Prendilo! Dove vai? Attaccalo! Ma pre... Inseguitelo! 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 Chogat! Perché fai così schifo? Fatti i mobili! Ah! Ah! Ahè! Vuoi combattere, sì! Oh! Aiuto! Eh! Graspalo tutto! Arriva il freccione di Ash! Via! 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 Sparate! Vabbè, bro! Ah! Ma perché sono tipo tutti in top lane? Preparate tutto! Oddio! Mamma mia! Sto difendendo, raga! Eh! Eh! Ah! Non ho più nulla! Non state facendo niente! Dove siete? Sono stato top! Dio buono! Un'ora e mezza da solo! Stoppo! Ci ho già capito qua come devo giocare! No, ma dai! Ma ho ucciso qualcuno! Ah! 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 Così cazzo! Così! Ma lei è viva! Hello! Hello! Da un po' che la fermano perché... Inizio a preoccupare! Infernal! Già che è un drake l'abbiamo fatto noi, non si sa come... Cosa non è sto game? Mi mancava un sacco! E che poi ragazzi, Iron 3 è questo, ma... Cioè, Iron 3 è un quattro, non cambia un cazzo! Oh! Prendete sta cosa qua! Bravo! Spara! Atta-ta! Uh! Attenzione! Attenzione! Tuck! Vai, vai! Vi comando io ragazzi! Seguite il capitano! Il capitano uncino! Bravi! Pum! 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 Piu! 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 Olè! Butto in alto la mano! Mamma mia che meraviglia comunque! Ma è troppo divertente ragazzi! Non ci potete proprio di nulla! È fortemente divertente! Vai GP! Magna l'insalata che ti fa bene! Lux intanto un po' di minio ma direte... Lei è il support! Ma come fa a fare i soldi se non ha l'item da support? Non mi schiattare Lux! Piu! Eeeh! Ta 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 ta! Brava Lux! Così ti voglio! Oh ma un altro... Un altro fungo? No non lo so! Cioè... Gnam! Ma dove sono i nemici? Sono spariti! Tuck! Mamma mia il demolish! Quanto ho graspato ragazzi? Fatemi vedere! 56! Quanto è il 56? Se hai 250... Cioè 56... Ah no aspetta però... Non so se mi da 5 HP! BOOM! Mamma mia signori! Cioè ho sto 8-3 con il Gunkplank buildato così! Non so se ci rendiamo conto! Sto 8-3 con il GP buildato così! Cioè sono letteralmente 200... 200... No impossì così tanti davvero! Un attimo! Eccolo qua! Ci ha di la troia! Tanto le guardo qua lo metto! Oh! Eh sì mi sa che mi dà 5 HP a botta GP! Piu! Piu piu! Piu! E gnam! Sì ragazzi! No! La zona non è partita! Dai! Nemmeno uno me ne killo! Sì ma i miei alleati non mi cagano mai! Fan sempre... Cioè perché è bene che fate gli obiettivi! Però insomma avete un po' per quel cazzo! Vabbè! Che ci volete fa' Abbiamo il Baron almeno! Caccia via! Eh raga con lo stop ci sarebbe stato ancora più easy! Ma col Supperz non posso usarlo purtroppo! Con il Supperz di WUW! Ma hanno 3 TP loro ma che cazzo! Vabbè noi abbiamo 3 IAL e loro hanno 3 TP! Balanced! Comunque ragazzi l'MVP sono stato io! Sono stato io! Iron 3 Banshee! Vai! Mi piace quando i miei alleati se ne vanno tutti così ho io in mano la situazione! Ed è molto divertente quando in mano la situazione ce l'ha il GP! Andiamo qua bot! Non so che fa! Ma stopundo! Beh giustamente io il Baron non ce l'ho! Ma... Perché Jin ha due Infinity Edge? Ah boh! Evidentemente funziona! Ma la domanda... La domanda vera è perché Jin ha i KAL E gli mancano ancora 15 Minion! Quando ne ha 141! Quando cazzo l'ha comprato? 5 minuti fa! Sparate! Più! 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 No non ho preso manco l'assist su quello! Erano due stack! E non si buttavano via due stack! Oddio Timo cosa farò? Ah! Più! Più! Grazie grazie! Fammi prendere HP Timo! Grazie! Mi piacciono gli HP permanenti! Grazie! Spara! Spara! GG! Mamma mia che clone fiesta! Oddio! Più! Ah sì? Eh! Oddio! Dove è andato? Aiuto! Amm! Che buona! Che buona l'arancia! Che buona l'arancia! Eh! Yam! Aiuto! Eh! Ah ah ah! Ah ah ah! Eh! Ah ah ah! Ah! Che è successo? Più! Ah ah ah! Mmm! Ah! Aiuto! Mi ha piato! Piatelo! Piatelo! Paffa mia ragazzi! Ti sparo! Aiuto! No no! Eh! Tu 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 tu! Com'è successo? Oddio! Lia! L'attenzione! Il gp è siciliano! Perché? Perché sono siciliano? Perché non c'è oggi il nostro picco! 13 amen! Ma quanto cazzo è bello! Cioè... Bellissimo raga! Bellissimo! Noi mandiamo una letterina a questi signori dicendo... Boh! Honor World perché la visage first items World è stata magia! Quattro mesi qua arrivano le ruspe! È stata magia! Cio gatta ti è... Mamma mia! Cio gatta andava di Titanic! Eh! Protegine for Afk! Ma se è quello livello più alto! Cioè! No no no! Parliamone! Parliamoci chiaramente! Io sono... Secondo in danni! Capito? Cioè! È incredibile sta cosa! Sono secondo in danni... Con questa build!